Il blocco della cessione dei crediti legati al super bonus 110% e ad altri bonus edilizi rischia di mandare in fallimento migliaia di imprese legate alle filiere di costruzioni, serramenti e impiantistica. A denunciarlo è la CNA Abruzzo, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sulla base dei risultati di un'indagine condotta su un campione di circa 2000 imprese rappresentative dei comparti in questione. Il responsabile di CNA Costruzioni Abruzzo, Silvio Calice, si appella alle istituzioni. In queste ore stiamo intervenendo nei confronti di tutti i parlamentari abruzzesi e di ogni scrivimento politico affinché intervengano a sbloccare la cessione del credito che sta mettendo a rischio 33.000 imprese artigiane e 150.000 posti di lavoro. Questo risultato emerso all'indagine che abbiamo prodotto a livello nazionale ci preoccupa molto perché ci sono 5 miliardi di crediti bloccati che le banche non vogliono acquistare più, probabilmente anche a causa di repentini e numerosi cambi normativi che rende incento il mercato. Di fronte a queste incertezze naturalmente viviamo un blocco. Il principale blocco è quello dell'acquisto dei crediti maturati all'interno dei cassetti fiscali che sono bandaggio un credito del cittadino che oggi le imprese attraverso le misure dello sconto in fattura e la gestione del credito si stanno accollando ma stanno diventando intermediari finanziari per conto dello Stato perché non dimentichiamo che l'incentivo che ha l'obiettivo di mettere in sicurezza un patrimonio immobiliare italiano e di renderlo più efficiente, oggi capiamo quando è importante l'efficienza energetica delle nostre abitazioni, oggi questa misura che ha vantaggio dei cittadini e ha questo obiettivo viene scaricata totalmente sulla finanza delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane mettendole al rischio di sopravvivenza. La misura sta dando i propri frutti perché vi dico solo un dato, dal 2011 al 2020 il settore delle costruzioni in Abruzzo ha perso quasi 3.000 unità e invece dal 2020 in poi grazie a queste misure espansive cominciamo a registrare una crescita del settore. Da marzo 2020 a marzo 2022 siamo passati a 800.000 ore lavorate a 2.360.000 ore lavorate con un incremento percentuale di quasi il 200%. Questo a significare che la misura se impostata bene, se ha la tranquillità e la stabilità normativa e anche temporale aggiungerei per raggiungere i suoi obiettivi per cui è stata pensata, crea volano per l'economia, efficienza energetica, sicurezza nel nostro patrimonio immobiliare anche occupazione stabile se riusciamo ad avere una misura pensata nel lungo periodo come si sta immaginando con dei calaggi che prevede il futuro. Siamo fortemente preoccupati, chiediamo a tutti i parlamentari abruzzesi di intervenire con determinazione e lasciando certezza nell'ambito normativo.